ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi andremo insieme a vedere come realizzare questo meraviglioso punto traffolato con questo meraviglioso effetto di rete decorativa è un motivo che ha due lati differenti che però sono entrambi molto belli guardate questo è il lato rovescio del progetto ma molto bello crea un proprio motivo a sua volta e questo invece lato diritto del motivo è un motivo facilissimo da realizzare è trafolato a punto giusto perciò è molto fine ed elegante può essere adattato veramente per i progetti di tutte le stagioni in base al filato che andremo utilizzare quindi è anche facilmente adattabile per i diversi progetti da quelli più piccoli come una sharp al cappellino a quelli più impegnativi come un cardigan copricostume un top e via dicendo il nostro motivo è multiplo di due malie e di quattro feri perciò ora per il nostro campioncino noi andiamo a avviare 12 mali di cui ci saranno 10 mali dedicate al motivo e due mali di vivagno noi per l'avvio andiamo utilizzare avvio alla nordica una volta che abbiamo avviato le nostre mali nel nostro caso 12 perché lavoriamo per un campioncino andiamo a fare il nostro primo ferro che è il ferro di base e lo andiamo a lavorare tutte le mali a rovescio in questo primo ferro anche malia di vivagno nei successivi feri la malia di vivagno verrà spostata ed ecco qui abbiamo messo la nostra base e partiamo con il nostro primo ferro del motivo la malia di vivagno noi la spostiamo subito dopo prima di partire con la coppia di due maglie perché il motivo è composto dalla coppia di due maglie noi andiamo realizzare un gettato in questo modo una volta che abbiamo realizzato il gettato entriamo in asula di due maglie come se dovessimo andare a lavorare un diritto normale con una diminuzione invece no andremo fare l'aumento entriamo in asula di due maglie estraiamo una maglia e non facciamo cadere le mali che si trovano sul ferro di sinistra creiamo un gettato e torniamo a rientrare nell'asula di due maglie e creiamo una terza maglia quindi da due maglie abbiamo creato tre maglie solo ora facciamo cadere le maglie dal ferro di sinistra ed ecco che da coppia di due maglie abbiamo quattro maglie abbiamo raddoppiato quindi questo ferro di andata noi andremo a raddoppiare il numero delle maglie mantenendo questo modo di lavorazione per tutto il ferro quindi prima di partire con la lavorazione della coppia dei due maglie facciamo il gettato entriamo in asula di due maglie creiamo una maglia lavorata un gettato rientriamo nell'asula di due maglie creiamo una terza maglia ed ecco anche qui da due maglie abbiamo creato tre maglie più il gettato quindi quattro e così dobbiamo andare a procedere per tutto il ferro di andata raddoppiando ed ecco qui così si presenta il motivo dopo che abbiamo fatto il ferro di andata del motivo ora il ferro di ritorno è il secondo ferro del motivo noi dobbiamo andare lavorare tutte le maglie a rovescio la male di vivagno spostiamo e successive male li andiamo lavorare a rovescio ma diminuendo e riportando al numero originale delle maglie quindi da quattro andiamo ricavare due andiamo a sua volta quattro male dividere in coppie da due maglie e da ogni due maglie ricavare una maglia guardate entriamo in asola di due maglie e ne ricaviamo una lavorata a rovescio di nuovo due maglie una a rovescio ecco che la nostra copia è tornata al suo numero originale di due maglie e così procediamo per tutto il ferro terzo ferro del motivo è il ferro di andata nel quale dovremo andare mantenere lo stesso modo di lavorazione come il ferro numero uno con una piccola differenza dobbiamo andare spezzare le copie per realizzare creare effetto scacchiere del motivo perciò andremo sempre lavorare con due coppie però non partiamo subito ma la prima maglia subito dopo il vivagno va lavorato singolarmente a diritto e solo ora partiamo con aumento raddoppiamento delle maglie quindi creiamo il nostro gettato dalle successive due maglie andiamo a ricavare tre maglie come abbiamo fatto nel ferro numero uno eccolo qui da due ne abbiamo ricavato tre più il gettato e sono quattro e così procediamo per tutto il ferro numero 3 andiamo raddoppiare le maglie e ricordiamo che all'inizio andiamo spezzare la coppia facendo una maglia singolare ed ecco qui siamo arrivati al fine del terzo ferro di andata e ci ritroviamo con la maglia singola la coppia della maglia che abbiamo fatto all'inizio e anche qui andiamo lavorare semplicemente a diritto normale quindi troveremo due maglie singole perché abbiamo spezzato la coppia una all'inizio e una alla fine che ci ha permesso creare l'effetto scacchiera ora il nostro ferro di ritorno quarto ferro e ultimo ferro del motivo noi dobbiamo andare nuovamente riportare al numero originale delle maglie perciò andremo fare delle diminuzioni in questo modo la maglia che si presenta singolare la lavoriamo singolare normale a rovescio e poi partiamo con le coppie dove da 3 abbiamo da 2 abbiamo ricavato 4 e ora dobbiamo andare riportare al numero originale dei 2 maglie perciò andiamo entrare in asola di 2 maglie e da 2 ricavare una 2 ricavare una e così procediamo per tutto il ferro e anche il ferro numero 4 alla fine noi troviamo la male singolare che andremo lavorare singolarmente a rovescio dopo aver fatto quattro feri abbiamo visto il completo blocco della realizzazione del nostro motivo ora non dovranno fare altro che portare avanti alternanza di questi quattro feri per il tutto il nostro progetto per lo quale lo stiamo applicando speriamo che questo motivo vi è piaciuto tanto quanto a noi perché lo troviamo veramente meraviglioso e semplicissimo da realizzare speriamo che il tutorial sia stato chiaro e utile se non siete ancora iscritti al nostro canale iscrivetevi per non perdere tantissimi altre novità in arrivo in più non dimenticate attivare la campanella per non perdere le notifiche quando esce un nuovo tutorial durante la settimana grazie a tutti e al prossimo video tutorial grazie a tutti